Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina, la rassegna stampa di Super J, andremo a sfogliare i quotidiani, il centro e il messaggero, il buongiorno da parte mia e da parte di Cristian De Luca in questo sabato 15 aprile 2023, si festeggia Santa Nibale, ci ritroveremo anche alle 9 per il tradizionale appuntamento con Aone, saremo a Teramo, parleremo di libri, in particolare dell'ultima fatica editoriale di Giorgia Tribuiani, scrittrice pescarese che ci illustrerà il suo ultimo libro, ma ci parlerà anche di tanti altri belli argomenti. Andiamo subito per ordine con la rassegna stampa e con il quotidiano Il Centro, con la prima pagina dell'edizione di Pescara, il titolo di apertura, i Rom e le minacce anche in comune, nelle carte del giudice le intimidazioni del clan per fermare gli sfratti. Nei titoli sotto la testata si ritorna a parlare di Covid dopo il bilancio settimanale che arriva ogni venerdì, salgono i casi, i più colpiti dal virus ora sono gli over 80, interviene anche il virologo Parruti, perdono gli anticorpi. E poi si parla di elezioni perché per quanto riguarda i comuni scade alle 12 il termine per le liste di sindaci e consiglieri. Domani all'interno del quotidiano Il Centro ci sarà un inserto con tutti i nomi dei candidati per quel che riguarda ovviamente l'Abruzzo. La visita all'Aquila del ministro dell'interno Piantedosi, l'Abruzzo non è più un'isola felice ma lo Stato c'è. Città Sant'Angelo, anziano morto in auto, indagata la ragazza ferita e poi per quanto riguarda la fotonotizia e nel ferro di cavallo domina il silenzio dopo gli arresti il nostro viaggio nella piazza dello spaccio per Il Quotidiano Il Centro. Movida, ora la maggioranza si spacca, Pescara, Fratelli d'Italia contro il piano per limitare i rumori ma la Lega avverte, va approvato. Nuovi dati per quel che riguarda il super bonus Abruzzo, a sorpresa le richieste aumentano e per quanto riguarda la guida del fisco, tasse il 7,30 precompilato e disponibile a fine mese. Un titolo che arriva sopra la testata perché richiama un articolo, un inserto che c'è all'interno della pagina della Cultura, si parla appunto di musica con un gruppo marsicano che incide in inglese il brano Mona Lisa di Ivan Graziani. Ancora per quanto riguarda Il Quotidiano Il Centro, l'edizione di Pescara, la prima pagina, aumentano i fondi in bilancio, eventi estivi, ci sono più soldi, il comune stanzia 625 mila Euro per i concerti e gli spettacoli. Strade chiuse per i lavori in centro, traffico in tilt e polemiche e poi trova spazio sulla prima pagina Il Quotidiano Il Centro, edizione Pescara, anche lo sport. Con il calcio di Serie C al Pescara servono i gol, l'Escano alla riscossa. Biancazzurri chiamati a giocare in casa dopo il turno prepasquale Amaro con sconfitta nel sabato santo per 3-0 contro il Taranto di Eziolino Capuano. Ancora per quanto riguarda Il Centro, ma la prima edizione di Teramo con il titolo di apertura popolare di Bari scatta lo sciopero Teramo e provincia con i sindacati che dichiarano non c'è chiarezza sul futuro della banca. Ancora le altre notizie, si parla dell'Amadori, l'azienda di Mociano, si tratta su precariato e aumenti salariali e poi una notizia che è a metà tra sport e non solo perché comunque l'evento del Giro d'Italia è sempre accompagna e non è solo sempre di carattere solo sportivo. Verso la partenza di tappa del 7 maggio con la Kermess Rosa che partirà proprio dalla città di Teramo, Giro d'Italia a Teramo presentati tutti gli appuntamenti appunto del 7 di maggio. Operario morto sono pronti tre avvisi, parliamo di cronaca, riguardano ditta e figure di cantiere, non la curria committente dei lavori. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, state al mare, serve personale, titolari di hotel e stabilimenti a caccia di cuochi e camerieri, allarme nelle strutture ricettive, in questo caso si fa riferimento a Pineto, ma è un problema un po' globale, Festival a Roseto, Albano e premiata Forneria Marconi sul palco di emozioni in musica, sport anche per quanto riguarda il richiamo dello sport nella prima pagina del quotidiano del centro edizione di Teramo, si parla di basket in carrozzina, Giulia Nova, la Micacci e il sogno tricolore in carrozzina, parte oggi la finale scudetto che si ripete come l'anno scorso contro la Briantea Cantù dove milita il terramano Simone De Maggi, il primo appuntamento proprio al Palacastrum, oggi pomeriggio e la nostra troupe composta da Fabio Talamonti e Gianluca Iezoni vi racconterà la partita che sarà trasmessa anche indifferita questa sera nel corso della seconda serata, dunque in bocca al lupo alla Micacci Giulia Nova che ci riprova nella finale scudetto, l'hanno passato persa sempre con la Briantea Cantù, quest'anno ci riprova giallorossi che hanno già vinto sempre contro i Brianzoli la Supercoppa. Andiamo avanti e passiamo alla prima pagina dell'edizione di Chieti, Lanciano e Sulmona, il titolo di apertura nuovo piano per il centro storico a Chieti dopo 45 anni arriva la variante urbanistica per il recupero degli edifici, il titolo di apertura perché si è aperta la fiera di Lanciano dell'agricoltura che si è appunto è aperta con la visita del ministro Lollobrigida, 10 mila visitatori nella prima giornata, numeri importanti per la fiera dell'agricoltura di Lanciano e vi ricordiamo anche che ci sarà quella di Teramo presentata proprio nel corso di questa settimana dal 22 al 25 aprile scorso. Anzi è da Covid, siamo a Chieti la novità, le scuole aprono agli specialisti e poi per quanto riguarda il lavoro, Pilkington incorpora Primo e Bravo, San Salvo con la fusione dei due stabilimenti satelliti nasce un polo di 2.500 lavoratori. Chieti dopo 8 anni a vasto si insedia il procuratore capo, ieri il giuramento di Di Florio guido una squadra capace. Celenza sul tregno, i ladri rubano in chiesa le offerte dei fedeli. Per quanto riguarda lo sport, il calcio di Serie D domani è il giorno del derby tra Chieti e Vastese, il derby vale la salvezza e si giocherà all'Aragona di Vasto. Ancora dopo la prima pagina dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto, passiamo alla prima pagina dell'Aquila, Avezzano-Sulmona, l'Abruzzo non è più un'isola felice, il ministro piante dosi all'Aquila, infiltrazioni malavitose, attenzione alta, le risposte ci sono. La rapina, minacciati otto impiegati, assalto alle poste dell'Aquila e banditi in fuga con 60.000 Euro. Carcere di Sulmona l'inchiesta, la gente che è stato fermato doveva vendere quei telefonini. Furti, i cittadini pagano la vigilanza, Arraiano si autotassano per contrastare il fenomeno, il sindaco non siamo tranquilli. Il prete social arriva all'Aquila, Don Ambrogio, 350.000 follower su TikTok, reagire alle delusioni. L'influencer con la tonaca manda un messaggio ai giovani. Spopolamento, lo studio sulla Marsica, 50.000 case non abitate. Calcio dilettantistico, San Benedetto, Venere e Celano, oggi l'ultima sfida per la vittoria. Campionato di promozione nel Girone A che oggi anticipa, gare alle ore 16, ci saranno a Miternina, Scoppito, San Benedetto, Venere e Celano. Torno in parte che seguiremo nei nostri notiziari, vi daremo conto di questa corsa testa a testa che potrebbe anche non finire oggi perché se le due squadre dovessero finire a pari punti anche dopo il fischio finale del turno odierno ci sarà lo spareggio previsto per domenica prossima proprio tra Celano e San Benedetto, Venere che al momento condividono la testa della classifica. Noi dal quotidiano Il Centro ci trasferiamo al quotidiano Il Messaggero con l'edizione nazionale che fa riferimento comunque all'Abruzzo. Il titolo di apertura, reddito, processo per chi froda, decreto lavoro, pene fino a 6 anni per dichiarazioni false o truffe di chi prende l'assegno, sgravi fiscali del 50% anche per le assunzioni stagionali e c'è il bonus per le nuove partite IVA. Le altre informazioni sul quotidiano Il Messaggero edizione nazionale, prima pagina, levazione di USS, scontro tra giudici e ministero, la Corte d'Appello, niente opposizione ai domiciliari. Ancora per quanto riguarda le altre notizie il Premier Meloni in Africa sostegni anche all'Etiopia Migranti, la stretta del centro-destra, stop a sanatorie e protezioni speciali. Scuola, aggressioni, stipendi bassi, tra i prof, ora è corsa la pensione, in uscita in 30 mila, incubo, cattedre vuote. Giulia, addio in chat, è giallo sui farmaci, squadra sotto shock, prima del salto nel vuoto la pallavolista ha telefonato a un amico, poi il messaggio bye bye, questo per quanto riguarda la pallavolista che è morta tragicamente in Turchia-Istambul mentre era in trasferta con la propria squadra, il Novara Volley Femminile. Ancora il richiamo dello sport per quanto riguarda il Messaggero edizione nazionale, si parla dell'anticipo della Lazio, vincente alla Spezia per 3-0, sempre più seconda la squadra di Maurizio Sarri e poi il titolo di apertura, riguarda anche l'Abruzzo, si parla di Pescara, la mafia dei Rom, minacciata anche la preside e poi ovviamente andremo ad approfondire nelle pagine interne del quotidiano. Il Messaggero, dal reddito al lavoro, sgravi fiscali estesi a chi assume stagionali, come cambia il sussidio, la decontribuzione del 50% anche sui contratti a termine, maxi contributo alle aziende che occupano i giovani NIT. Situazione drammatica, servono 200 mila addetti, si parla di Confagricoltura con Massimiliano Gian Santi, ora è necessario lavorare sul taglio del cuneo fiscale. Per quanto riguarda Federalberghi, i centri per l'impiego non hanno funzionato, Bernabò Bocca che dichiara la strada da seguire, incentivare i datori di lavoro e puntare sulla formazione. C'è la stretta sulle frodi, fino a 6 anni di carcere, a processo chi presenta documenti contraffatti per ottenere l'assegno, sussidio revocato al primo rifiuto di un contratto anche di un solo mese. La lotta ai furbetti, colfe badanti più agevolazioni, un aumento di 30 Euro per l'assegno unico agli orfani, la deducibilità dei contributi per i lavoratori domestici salirà da 1.500 fino a 3.000 Euro. L'incremento del sostegno ai figli coinvolgerà 80.000 minori che hanno perso uno dei due genitori. Ancora per quanto riguarda le pagine interne del quotidiano, il messaggero, l'emergenza sulle nostre coste, meloni e il nodo migranti, sostegni anche all'Etiopia, stoppa le protezioni speciali. Il premier in missione ad Addis Abeba, ad ottobre presenteremo il piano Mattei. Sub emendamento del centrodestra basta con le sanatorie per i clandestini. La nave delle ONG finita agli scafisti, i PM di Catania aprono un'inchiesta. Il peschereccio arrivato in Sicilia con 600 migranti era di proprietà di Sea-Watch e di Mission Lifeline. Il ministro Piantedosi risponde alla CEI su Lampedusa. L'emergenza è solo tecnica, serve per snellire le procedure. Scontro giudici ministero sull'evasione del russo US. Milano, la corte d'appello a Nordio, non vi siete opposti ai domiciliari, ma via Arenula aveva chiesto il carcere. Faro sul mancato sequestro dei cellulari. Si parla appunto dell'imprenditore russo Artem US. Rebus. Quegli arresti allegri tra telefonini, due e visite degli amici. C'è la ricostruzione. Ha ricevuto almeno 12 persone nel suo appartamento. La moglie ha fatto più volte la spola con Mosca, imprenditore pugito a Mosca. Latina, Terni e le altre. Il test delle comunali. Rebus alleanze a sinistra. Il 14 e 15 maggio al voto 18 capoluoghi. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insieme solo in 5 città. Nel Lazio, Fortelli d'Italia punta anche su Terracina. In Umbria, in Lizze, il patron della Ternana. Oggi il termine per la presentazione delle liste. Ad Anani, il possibile ritorno in campo di Batman Fiorito. Salvini si riprende la Lega. Aumentiamo gli iscritti. Il leader del carroccio è il Consiglio federale. Nomine, piena sintonia con Giorgia e Silvio. Veneto e Lombardia, rinnovo dei vertici e per le europee riparte l'asse sovranista. I due Matteo. Renzi riparte da Italia Viva. La Leopolda non si tocca. Deluso per la fine del partito unico, ma sempre combattivo. L'ex premier di nuovo leader a tempo pieno. La scommessa. Meloni col tempo sarà più debole. Caccia ai delusi del Partito Democratico e agli elettori di Forza Italia. Ancora le altre notizie. Si parla sempre di notizie che arrivano dal mondo. Kiev si ritira da Bakhmut. Mosca conta le perdite. Forze speciali distrutte. Il capo di Wagner al Cremlino. Adesso possiamo finire l'operazione in Ucraina. Lo Zar avvia la coscrizione elettronica. Chi si rifiuta non potrà lasciare il paese. La talpa rischia 15 anni, ma l'America ora ha paura per le falle nella sicurezza. Il caso del 21enne che ha diffuso le carte sulla guerra alza l'allarme. Sono decine di migliaia le persone che hanno accesso ai file top secret. Si parla della pallavolista. Iulia. L'addio via chat. Poi il salto nel vuoto. Il mistero dei farmaci. Le indagini sulla tragica fine di Tuma. I media turchi. Un SMS prima di morire. Novara smentisce l'allarme di un amico. Nessuno ci ha avvertito che stava male. L'esame tossicologico chiarirà se aveva assunto medicine. La madre. Non posso credere che si sia tolta la vita. Le lacrime delle compagne di squadra. Avremmo dovuto capire il tuo dolore. Suor Giovanna, presidente del team. Daremo supporto psicologico alle ragazze. Ora serve aiuto anche a noi. Ancora per quanto riguarda le altre notizie. Per quanto riguarda il quodiano il messaggero ci trasferiamo alle pagine dell'Abruzzo con il titolo di apertura che riguarda sempre il ministro Salvini. Priorità pedaggi. Il ministro dopo l'incontro con Marsiglio. Parliamo di autostrade. Affronteremo il caso Tariffe. Stoccata. I sindaci esclusi dalla riunione. Sorpreso e amareggiato dalla protesta. L'Aquila numero unico per le emergenze. Piantedosi presenta il NUE 112. E poi ancora inaugurata la fiera dell'agricoltura a Lanciano con il ministro Lollo Brigida. Innovazione per l'agricoltura. Mafia dei Rom. Minacce alla preside del quartiere. Spuntano intimidazioni a tappeto a Rancitelli. Anche pressioni sul comune per salvare il ferro di cavallo. L'Aquila rapina col taglierino alle poste a segno colpo da 60 mila euro. E poi sulla prima pagina del quodiano il messaggero edizione Abruzzo si torna a parlare dell'episodio di cronaca che ha poturbato la città di Teramo proprio in questa settimana. La morte del giovane manovale nel cantiere di piazza Santo Agostino proprio a Teramo. Precipitato nel cantiere. Trovati due testimoni. Due colleghi hanno visto precipitare il manovale. Andremo ad approfondire. Meteo. Il gota nazionale all'Università dell'Aquila. Confronto organizzato da Setems sulle nuove strategie di previsione. Teramo. fondi del PNRR. Filippo Lucci. Non fate più campi da padel. Questo è il monito di Filippo Lucci. E poi restyling. Pescara al via gli interventi di regenerazione urbanistica. Calcio di Serie C. Pescara contro il Monopoli. Ritornano Brosco e Milani. Il Covid torna a crescere. 800 nuovi contagi e due decessi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.092, soltanto 68 i ricoverati, gli altri isolati. Le pagine interne del quotidiano Il Messaggero. Edizione Abruzzo con il nodo infrastrutture. Salvini sulle autostrade. I pedaggi una priorità. Il Ministro dopo l'incontro con Marsiglio. Mi occuperò presto della questione tariffe. stoccata alla protesta dei sindaci. Sono sorpreso e amareggiato. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Silvio Paolucci. Manca ancora la convocazione del tavolo tecnico. I primi cittadini torneranno a manifestare il 19 aprile davanti alla sede del MIT. Le pagine interne del quotidiano Il Messaggero ci portano alla pagina dedicata a Pescara. Ti appendo al cancello lo shock della preside finita nel mirino dei Rom. Negli atti del GIP l'aggressione verbale della Papaccioli alla dirigente scolastica. Minacce anche l'assessore Sulpizio per una famiglia sgomberata da via Tavo. Ancora intimidazioni della donna del boss dopo che la figlia aveva scagliato un banco contro un insegnante. Clima di terrore anche in comune nel settore dei servizi sociali. La testimonianza di Molisani. Un'organizzazione di spaccio ma non associazione mafiosa. Johnny di Pietrantonio ha risposto al GIP Billy e al PM Gallo della DDA. ha ammesso situazioni di droga ma ha respinto l'accusa più pesante. Ancora per quanto riguarda l'edizione di Abruzzese, le pagine di Pescara. Vecchi palazzi e rottamati proseguono in via Genova la rigenerazione urbana. Con la demolizione iniziata lunedì si consoli della nuova tendenza edilizia. Il presidente dei costruttori d'Intino, bene ma ora serve un piano del costruito. Ladro di rame fermato, sequestri oltre mille e chili. Polizia ha un impegno prezioso per Pescara. Le idee, il dibattito con l'intervento del prefetto emerito di Pescara, Vincenzo D'Antuono. Pianella, clonati i telefoni della banca per dare il via libera ad acquisti truffa. Due napoletani arrestati dalla cabina team intercettavano le linee della BCC personale insospettito dal lungo blackout colti sul fatto con gli attrezzi. D'Incecco resto in aula per il piano sui decibel, risanamento acustico in consiglio il 27. Il capogruppo leghista rinvia le dimissioni. E' un obbligo di legge a Piazza Muzzi gli esercenti mai così liberi di lavorare. Ancora per quanto riguarda l'edizione dell'Aquila, meglio le pagine relative all'Aquila. Numero unico emergenze, la firma di piante dosi per la centrale operativa. Il ministro in città ratifica l'operazione a Bruzzo tra le regioni più moderne. Sede nel Palazzo della Protezione Civile. Il giro del fuoco si accelera sull'ipotesi della ex Rossi e poi ancora questura in fascia alta. Soluzione stabile, possibile, ecco risorse e personale. Assalto all'ufficio postale, bottino da 60 mila euro. Banditi in azione in via Rocco Carabba e giallo sull'arma usata, forse un taglierino. Hanno agito intorno all'ora di chiusura, minacciati otto dipendenti e la direttrice. Si sono diretti subito la cassaforte, dalle testimonianze avrebbero parlato con accento italiano. Nel futuro un cibo meno saporito, ma con effetti curativi per la salute e l'intervento del cuoco. Fiera del 25 aprile gratis per oltre 140 operatori. Il comune ha esonerato gli ambulanti dal pagamento della quota per partecipare. Verdecchia, vogliamo sostenere il settore, ci aspettiamo una grande risposta turistica. Migliora la bimba accaduta dal balcone grazie ai due che l'hanno soccorsa. Cellulari e detenuti, la gente resta in carcere. Parliamo del penitenziario di Sulmona. L'uomo ha provato a giustificarsi, li ho comprati per rivenderli, ma il giudice non si è convinto. Sanità comune all'ASL, ecco le carenze. Ancora la pagina dedicata a Chieti di Florio, si insedia in procura. Io collante di un ottimo team, cerimonia in tribunale, presenti i familiari, discorso segnato da una grande emozione. Fissa i punti, non dobbiamo impartire lezioni di etica, no ai magistrati burocrati. Il presidente Falco, persona di grande esperienza. Guanciale al teatro Marrucino, l'attore avezzanese Lino Guanciale, nello spettacolo di Sacco, oggi e domani l'uomo più crudele del mondo. Cavuti invita a riflettere sul genere umano. Piano di rientro, strategia antidissesto sulle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti. Il sindaco Diego Ferrara di Chieti si affida ai parlamentari di Partito Democratico e Cinque Stelle. Edizione 2023, torna per 24 ore la maratona di lettura. Il tema è la città. Fiera dell'agricoltura tra radici e innovazione. Apertura con il ministro Lollo Brigida, che parla di economia e sostenibilità. A Lanciano esorge con 10.000 presenze e 300 espositori, un settore in forte crescita. All'inaugurazione anche i parlamentari Deramo e Sigismondi, assessori regionali con di Campli, a fare gli onori di casa. Il bilancio oggi in consiglio. Castiglione si gioca il futuro. Parliamo di Ortona, prova di tenuta della maggioranza e arriva all'ultimatum da Menga e Iubatti. Cautisi di metta, subito dopo il voto. Pilkington, primo e bravo, unica realtà, entro la fine dell'anno, via alla fusione. Siamo alle pagine che arriviamo con dedicate a Teramo. Operaio morto sul lavoro, la verità da due testimoni. I colleghi avrebbero assistito al volo di Ibrahima Drame dall'impalcatura. Veglia di preghiera per il 24enne, padre di due bambini in Senegal. Castiglione, Messerraimondo, cimitero digitale, app per trovare le tombe. Giro d'Italia, dal lunedì ci saranno degli eventi in città. Ricordiamo la tappa, partenza da Teramo, il prossimo 7 di maggio. Verna presenta la sua lista in Nuova Teramo, ma non mi candido, c'è un tempo per tutto. Oggi inaugurate le sedie elettorali di Antonetti e d'Alberto, Marroni decade la quarta lista. Centrosinistra, una cena di alleanze. I big della politica a tavola nel ristorante dell'assessore Giorgini, prossimo candidato sindaco a Giulianova per il centrodestra. D'Ignazio, gettate le basi per la rinascita del Partito Democratico in città, alle prossime comunali dobbiamo presentarci con patti. L'ex sindaco Mastromauro potrebbe andare in regione in uno scontro diretto con Costantini. Pineto, Pasqua ortodossa al Parco della Pace e poi all'anziana di 88 anni rapinata in casa, poi un ladro. Visita il circolo tennis, siamo a Roseto. Le indagini affidate ai carabinieri guidati dal capitano Nicolò Morandi. PNRR no ai fondi per campi da padel, meglio prevedere scuole tecnologiche. Il sindaco Serrani li uso per la frana, strutture scolastiche antisismiche e attività ludiche e inclusive. A parlare, prima del sindaco Serrani era stato il monito, appunto quello del PNR sui fondi da non destinare ai campi da padel, di Filippo Lucci. Amadori, contratto integrativo e precari, ci sono le trattative. Poi a Giulianova, al Porto, è stato simulato un salvataggio, giornata del mare, festa per 377 studenti. Siamo alle pagine dedicate allo sport, il calcio di Serie C, Pescara con Milani e Brosco nel motore, solo Plizzari out. Nell'ultima casalinga di regular season, il Monopoli fa visita all'Adriatico Giovanni Cornacchia. L'unico acciaccato è Delle Monache, che siederà comunque in panchina. A centrocampo, dentro Palmiero e Giabuà, entrambi diffidati con Rafia, mezzala destra. Il Delfino può vincere i play-off. A parlare è Gianluca Grassadonia, uno dei tanti figliocci di Zeman, in giro per l'Italia. Scudetto e parliamo di basket carrozzina. L'amicacci ci prova, ci riprova contro Cantù. Oggi alle 15 in diretta TV al Palacastro, in scena il primo atto della serie finale. Ci sarà appunto la diretta sulla nostra emittente a partire dalle 15. e soprattutto anche sul canale di Rai Sport. La nostra emittente trasmetterà anche in seconda serata la telecronaca della partita curata da Fabio Talamonti. In bocca al lupo all'amicacci Abruzzo, Giulianova spia i play-off. Parliamo di calcio. Oggi saranno ben tre anticipi nel campionato di eccellenza. Sono tutte di fatto partite che riguardano squadre che non hanno più niente da chiedere. mentre è piena bagarre per quanto riguarda la corsa ai play-out e la salvezza diretta. Anticipata oggi al Fadini la gara contro Delfino Curi. Poi i dirigenti vanno a San Marino per vedere il progresso. Formazione bolognese di Castel Maggiore che ad oggi, con qualche giornata ancora da prima della conclusione della stagione regolare nel torneo di eccellenze in Emilia-Romagna, è la candidata più seria ad affrontare il Giulianova nei play-off nazionali. La squadra di risente di diversi infortuni e ammunizioni. La Catto presenta criticità. Cerasi dovrà coprire i buchi. Giornata comunque oggi che vede tre anticipi, dicevamo, con Giulianova Delfino Curi in programma alle ore 16. Ortona cerca l'impresa contro l'Aquila. Siamo sempre al campionato di eccellenza. L'Aquila è già promossa da qualche settimana in Serie D. Si congederà al proprio pubblico domani, mentre l'Ortona cerca punti salvezza. E poi si parla di Serie D con il derby. Vastese Chieti, c'è clima da super derby. Serra acquista un nuovo pullman per la squadra allo stadio. Ci saranno anche i sindaci, i primi cittadini. Ferrara di Chieti e Menna di Vasto. Notaresco, obbligato a vincere. Formazione in ottica salvezza la gara in casa della Roma City. Primo scontro diretto di tre consecutivi per il rosso-blu di mister Alessandro Bruno. Con questa notizia si chiude la rassegna stampa di Super J. Questo appuntamento di prima mattina, non prima però, di avervi ricordato gli appuntamenti dei fischietti teramani della Cannes di A e B in questo fine settimana per quanto riguarda i principali tornei calcistici. C'è stato già un fischietto teramano che è sceso in campo, o meglio, Antonio Di Martino che fa il VAR, ha agito ieri sera nell'anticipo cremonese Empoli. Sarà anche VAR oggi in Serie B in Venezia-Palermo per quanto riguarda gli altri fischietti. Daniele Paterna sarà Avar in Cosenza-Cittadella. Match di prestigio per l'assistente Rosetano di Giacinto che sarà il secondo assistente arbitrale nella gara Genova-Perugia, mentre lunedì sera toccherà al fischietto Rosetano Ermanno Feliciani che dirigerà, o meglio, sarà il quarto uomo in Fiorentina-Atalanta. Grazie a voi tutti per questo appuntamento con Di Prima Mattina, il saluto da parte di Cristian De Luca e da parte mia, ci ritroveremo alle 9 per a colazione parlando di libri, mentre Di Prima Mattina tornerà puntuale lunedì mattina. Grazie e buon fine settimana a tutti! Grazie a tutti!